La diplomazia islandese bussa le porte dell'Europa, anche se la popolazione islandese resta a larga maggioranza contraria all'ingresso nell'Unione. I negoziati per l'adesione sono iniziati a Bruxelles e l'Islanda ha già chiuso due capitoli. A questo ritmo il paese potrebbe sorpassare altri stati candidati da più tempo. Nessuno dovrebbe sentirsi dimenticato perché ogni processo di adesione è unico. Ogni stato è giudicato sulla base del merito e l'Islanda è avvantaggiata perché da 17 anni fa parte dello spazio economico europeo. La questione più spinosa resta la politica europea della pesca. Reykjavik teme che altri paesi europei peschino eccessivamente nelle proprie acque. Al ministro degli esseri islandesi abbiamo chiesto se volessere le deroghe per proteggere il settore della pesca islandese. Non abbiamo bisogno di deroghe, ha dichiarato in questo caso, abbiamo bisogno di una certa stabilità che significa che gli stati devono rispettare le proprie quote di pesca. Altro nodo, il fallimento della banca iSave ha gettato il paese sull'orlo della bancarotta. Crack finanziario e politica della pesca sono le principali questioni aperte. Resta da vedere se gli islandesi che hanno già mostrato il loro spirito ribelle vogliono veramente aderire all'Unione. Secondo il governo di Reykjavik tutto dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo sulla politica della pesca. In Bruxelles, Rafa Cereceda, Euronews.